La seconda ondata della mareggiata con vento d'Alevante, preannunciata per il fine settimana dopo quella devastante di mercoledì scorso, ha lasciato il segno indelebile del suo passaggio su tutta la costa affanese, da Ponte Sasso fino a Gimarra. Ha portato via quel che restava da portare via, ha devastato ciò che era ancora rimasto in piedi e ha aggravato le condizioni delle strutture in diversi punti della costa. Nella nottata tra sabato e domenica e la stessa mattinata di domenica, con l'arenile battuto incessantemente dalle onde di oltre due metri e mezzo e con un livello del mare inalzato di oltre un metro, c'era poco da stare allegri ed infatti a mare calmo di oggi si è provveduto alle scoraggianti ricognizioni da parte di operatori e amministratori locali che già da ieri hanno ispezionato i luoghi più interessati dalla mareggiata. Ponte Sasso, zona prima secca e isla Morada sono state le più colpite, con il mare che ha oltrepassato anche i capanni ed erodendo fondamenta e strutture, lasciando un paesaggio di desolazione e migliaia di euro di danni dietro di sé e tutto da ricostruire. Dalla parte opposta, Gimarra e concessioni a nord del torrente Arzilla, il cui sottopasso è un guado a tutti gli effetti ormai e hanno visto decine e decine di metri di spiaggia sparire assieme a migliaia di metri cubi di sabbia. La frequentatissima e apprezzatissima anche turisticamente da stranieri e forestieri spiaggia dei cani ha visto erodere dalla furia del mare anche le fondamenta delle strutture e accusare grossi danni agli impianti e sottoservizi che ora sono stati portati allo scoperto. Gli impianti sono tutti da rivedere e le fondazioni per fortuna sono belle robuste quindi non hanno subito, non hanno avuto problemi. Invece la parte degli impianti sia idrici che elettrici saranno completamente da rifare o comunque da controllare totalmente. L'importante sarà sicuramente avere un supporto dall'amministrazione che è comunque qua già presente ed è stata sempre fino adesso al nostro fianco per riaprire più belli o almeno come prima. È novembre, dicono i lupi di mare, il mese in cui il Levante e lo Scirocco fanno i loro danni maggiori in cui la velocità del vento crea onde anche oltre i tre metri come è successo in mareggiate memorabili nei decenni passati. Il periodo comunque è sempre questo, ci dicono. Per avere un'idea della furia del mare di questi giorni basta recarsi all'anfiteatro Rastat dove dalla parte del mare le canalizzazioni dell'energia elettrica e dei servizi sono state portate allo scoperto creando uno scalino dal piano abituale di Calpestio di oltre 60 centimetri e portando a vivo la fondazione. Oppure lungo la massicciata della linea ferroviaria dopo la spiaggia dei Cani il cui mare ha scoperto il basamento in cemento armato del muro e investito di acqua salata i convogli in transito in quel momento. Grazie.